Exoractics, oggi siamo qui a presentarvi il nostro nuovo arrivo, in particolare si tratta di Peugeot 308 Station Wagon con motore 1.6 diesel da 120 cavalli, con questo allestimento GT Line. La vettura al momento ha 84.200 km, è stata immatricolata a dicembre del 2017. Andandoci sulla parte laterale possiamo notare il logo GT Line che dà questo senso di sportività, vetri posteriori oscurati con anche il 1.8, la vettura in questo caso ha sensori parcheggio posteriori e anche dotata di retrocamera. Il bagagliaio molto capiente, abbiamo una capienza di 610 decimetri cubi, abbattendo i sedili posteriori arriviamo addirittura a 1.660 decimetri cubi. Passando all'interno dell'abitacolo possiamo notare questi bellissimi interni con questo ricamo tipico ST Line, quindi interni tessuto con anche rifiniture in pelle, attacchi Isofix sui nostri sedili e qui abbiamo alzavetri elettrici. Passando invece alla posizione di guida possiamo notare l'estremo comfort alla guida con questo assetto anche sportivo, ci permette anche di avere un'ottima visibilità, qui sul volante possiamo notare appunto i comandi, schermo touch anche per le varie funzioni del nostro smartphone e qui abbiamo cambio manuale 6 marce, freno di stazionamento elettronico, tasto per modalità sportiva e nulla, quindi questa è la nostra vettura. Questa come tantissime altre nostre vetture le potete trovare sul sito rattix.com